Ciao! Come mettere aperto solo su appuntamento su Google Business Profile? La risposta è che non c'è un'opzione per mettere aperto solo su appuntamento, ma nella nuova interfaccia Google dà la possibilità di togliere gli orari, di non farli vedere e poi di aggiungere come opzioni di servizio appuntamento online. Quindi è una cosa che si avvicina molto. Come fare? Intanto cercate il nome della vostra scheda su Google, dovete chiaramente essere loggati, come in questo caso, in questo caso ho cercato Luca Bove, esce la mia scheda, l'interfaccia NMX, vado su modifica profilo, dopo di ciò vado su orari, Quindi quando vado su orari, vedete che c'è anche l'opzione aperta, orario standard non specificato, quindi non mostrare gli orari d'apertura. Quindi io clicco qui sopra e Google non mi mostrerà più gli orari standard sulla mia scheda. Dopo di ciò posso anche mettere tra le varie opzioni di servizio offre appuntamenti online salvo e quindi ho la mia scheda senza orari con l'opzione appuntamenti online. Quindi insomma tendenzialmente chi, il cliente che vorrà contattarmi sa che dovrà o cliccare sul sito web o telefonare prima di recarsi in ufficio. Detto questo vi saluto, ciao!